Molto volentieri, intanto farvi complimenti perché come ho detto alla conferenza stampa soltanto chi ha la fortuna di partecipare a queste giornate, a questi eventi capisce l'atmosfera che c'è, l'atmosfera l'abbiamo detto più volte, è quella di condivisione, la possibilità di trattare argomenti seri, argomenti legati al volontariato, alla solidarietà, argomenti divertenti, si riesce a fare tutto con quella leggerezza, con quella voglia di stare insieme che penso che veramente faccia la differenza, quindi io vi ringrazio per quello che riuscite a fare, permettetelo, richiedo un applauso, ringraziamo come sempre Antonio Ricci per la nostra forza e grazie a lui per fare tante cose, però è vero che lo spirito che c'è qua forse fa sì che le persone che vengono poi cominciano a parlare sempre di più anche con amici e colleghe, quindi ci sia la voglia di tornare, questa è una cosa molto bella per la città di Albini, quindi grazie a voi e grazie a tutti voi che siete grazie